La squadra lavora al Mary Rose in attesa della partenza per la Turchia. Dall'8 al 15 dicembre Granata si alleneranno al caldo dell'Antaglia e disputeranno anche due gare amichevoli. All'appello mancano i reduci dal Mondiale. Bron si aggregherà alla squadra in Turchia, mentre Dià e Piontek, che ieri hanno salutato la rassegna eridata, potrebbero rientrare direttamente al ritorno della squadra in città. Intanto si lavora sul mercato. Il presidente Danilo Yervolino ha dettato le linee guida da seguire. Un incontro con l'AD Milan servirà per fare il punto e fissare il budget da mettere a disposizione del direttore sportivo De Santis. È chiaro che i margini d'azione saranno fatalmente elastici e potrebbero ampliarsi qualora si riuscisse a sfoltire la rosa in maniera significativa. Ingaggi pesanti da smaltire più che cessioni remunerative. E' questa la prospettiva in uscita della Sretana che comunque è in rosa e elementi che fanno gola. Da Mazzocchi a Boinen passando per Coulibaly e Bonazzoli. Qualche sondaggio per questi calciatori è stato fatto da parte di altri club. In entrate invece sono state individuate le priorità. Serve un esterno destro e Zortea, impresso dall'Atalanta, sarebbe una soluzione ideale sia sotto l'aspetto economico sia sotto l'aspetto tecnico, in quanto il calciatore è gretto a Nicola che l'ha allenato nella scorsa stagione e lo ha in qualche occasione utilizzato anche a sinistra. Al centro della difesa si valuta Noiting dell'Udinese che è in scadenza a giugno. Per l'olandese dunque la Sretana dovrebbe fare un'eccezione rispetto alla linea dei prestiti fino a fine stagione ed assicurare di almeno un altro anno di contratto. Resta sul taccuino Ceccherini del Verona. In mediana il primo nome è quello di Diego Demme del Napoli. Il tedesco ha dato disponibilità al trasferimento. Resta da trovare l'accordo sull'ingaggio. Il club azzurro però vorrebbe liberare il calciatore solo dopo aver integrato la Rosa con un altro centrocampista. In attacco l'idea del ritorno di Dirci potrebbe presto concretizzarsi. Il Verona aveva sondato il terreno per uno scambio con Bonazzoli che potrebbe preferire altre destinazioni. In base all'uscita poi la Sretana potrebbe decidere di ingaggiare un esterno sinistro. Ruggeri dell'Atalanta sarebbe il preferito ed un altro centrocampista. Sul taccuino ci sono sempre Raskin, Zurkowski e Camarà.